il cortometraggio sono felicissimo ringrazio ancora la fondazione morgana con il dottor marco ringrazio patrizia per avermi scelto per questo piccolo ruolo sono veramente felice perché questa dalla mia prima esperienza ma soprattutto sono felice per il messaggio che questo cortometraggio contiene perché è rivolto a tutti i giovani ragazzi a tutti gli uomini perché è un argomento poco conosciuto anche io ne ero veramente non era conoscenza e quindi spero che anche grazie a questo cortometraggio possiamo mandare e possiamo far conoscere questo argomento a tutti i ragazzi perché è veramente molto importante e io sono veramente felice di aver fatto parte di questo progetto nella peggiore epoca mai esistita dove l'imperante corruzione permea e inaridisce lo spirito umano l'ambiente ed ogni sana prospettiva di vita dove veleni alimentari e sociali in ciao ragazzi eccoci qui allora ragazzi se questo video vi piace mi raccomando sempre cliccate mi piace e scrivete un commento sotto questo video qua noi ci vediamo al prossimo video da cilomangine tutto ciao bella raga iscrivetevi al canale